Baccarone, mi hai provocato? Io me ne mangio! Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda puntata del corso di polacco in preparazione per la GMG. Oggi siamo a tavola e vi insegneremo alcune parole che potrebbero risultarvi utili mentre mangerete. Buon appetito! Smacznego! Grazie! Per favore! Proszę! Se una cosa non vi piace, direte no grazie. Nie, cincuja! Se invece vi piacerà, che buona! Dobre, cincuja! Adesso vi diremo alcuni nomi di cibi e bevande. Iniziamo! Acqua, voda. Acqua, voda. Pasta, macaron. Pasta, macaron. Pane, chle. Pane, chle. Carne, nienso. Carne, nienso. Patate. Gimniaki. Patate. Gimniaki. Ciao ragazzi! 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 Ciao ragazzi!